Buongiorno Giuliano intanto, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli otto liners in ascolto. Mi senti? Assolutamente sì, ok, ok, scusa. Mi aggancio con una battuta alla questione lì argentina che insomma dopo avrei modo di parlarne con persone molto sicuramente più esperte di me e volevo citarti un tweet che ha scritto, non so se lo segui l'economista Francesco Lenzi su Twitter l'altro giorno, comunque vi invito a seguirlo perché c'ha degli spunti interessanti e è molto competente come economista, insomma scrive anche qualcosa sul fatto quotidiano ogni tanto e secondo me c'ha degli spunti interessanti e lui ha scritto, ha fatto un elenco, ha detto abolire la legislazione sulla tutela dell'ambiente, abolire otto ministeri, la banca centrale e adottare il dollaro come valuta, tagliare le tasse, avere il saldo pubblico a zero tagliando spese e sussidi di 14 punti di PIL che oggi sono al 38% del PIL dice, istituto Bruno Leoni alla prova pratica in Argentina, quindi vedremo l'istituto Bruno Leoni come che non so se lo sanno tutti, comunque l'istituto Bruno Leoni è il tempio del neoliberismo italiano, quindi vedremo alla prova questo ultraturbo neoliberismo alla prova, vedremo cosa combinerà, purtroppo cose brutte sicuramente almeno per gli argentini, vabbè comunque questo poi magari ne riparleremo più tardi, io stamani mi volevo concentrare un attimo sulla questione del MES perché è ancora lì che gravita lì sull'Aleggia, sui palazzi romani questa ratifica del MES, ne parla stamani la Repubblica in prima pagina, c'è un articolo di Claudio Tito, eccolo lì sul colonnino di destra e dice modifica il patto, l'Italia pronta a ratificare il MES, si tratta ovviamente del patto di stabilità, quindi viene utilizzato un po' la riforma del MES come una contropartita per avere un patto di stabilità un po' più morbido per l'Italia, che poi più morbido cosa vuol dire, insomma, vabbè, comunque scrive la Repubblica, il governo è pronto a ratificare il MES, non ora ma a dicembre, dopo l'Ecofin che potrebbe dare il via libera alla riforma del patto di stabilità, intesa Meloni-Scholz su migranti e difesa. E leggerei anche l'inizio dell'articolo di Tito che si trova a pagina 9, non so se riesci a scorrere, pagina 9, comunque all'interno il titolo recita l'offerta di Meloni all'Europa sia al MES a dicembre dopo l'accordo sul patto di stabilità, sarà inserito l'obbligo di un altro voto parlamentare prima di attivare il fondo, come se tutte queste scelte di accedere a una cosa come il MES fossero, diciamo, delle scelte così che l'Italia può fare o non può fare. In realtà quando arriverai al punto di dover accedere al MES sarai talmente pressato e obbligato a farlo, l'Europa sappiamo bene, l'Unione Europea e l'Eurozona hanno molti strumenti per fare pressioni in questo senso qui, primo fra tutti la Banca Centrale, ovviamente il non supporto della Banca Centrale, ovviamente ci sarà un clima talmente pesante, talmente pressante che ovviamente il Parlamento ratificherà l'eventuale accesso al MES, ovviamente. Oggi si sta parlando della riforma del MES che comunque è pericolosa, comunque andiamo a leggere che cosa scrive proprio all'inizio Tito, dice il governo Meloni è pronto a ratificare il MES non questo mese ma a dicembre dopo la riunione dell'Ecofin che potrebbe dare il via libera alla riforma del patto di stabilità. E questo è il messaggio che nelle ultime ore è partito da Palazzo Chigi verso i piani alti della Commissione Europea ed è questa una delle doti che la Presidente del Consiglio vuole portare domani a Berlino nell'incontro che avrà con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Si tratta di un'apertura ancora del tutto informale e ufficiosa che però non a caso arriva nei giorni che hanno preceduto la valutazione della manovra economica da parte dell'esecutivo europeo, il vertice di Berlino e le trattative finali sulla nuova governance economica dell'UE. L'idea quindi è di mettere sul tavolo il voto parlamentare sul meccanismo di stabilità cercando di ottenere domani il massimo della disponibilità da parte di Scholz sul patto di stabilità. Per uscire dal cul de sacca in cui la maggioranza di centrodestra si è infilata in questi mesi, Palazzo Chigi e Tesoro puntano dunque a calendarizzare in aula l'esame della ratifica nella prima metà di dicembre con due clausole politiche. Ora, leggendo queste cose qua, sicuramente sono indiscrezioni, non c'è nulla ancora di ufficiale, però mi viene in mente, nel senso è un finale che in qualche modo era un po' già scritto questo, nonostante tutte le battaglie fatte dalla Meloni, dalla Lega contro il meccanismo europeo di stabilità o il fondo salva stati, come veniva chiamato una volta, che in realtà è fondo salvabanche alla fine, insomma si andrà probabilmente in quella direzione lì. E sono curioso, sono davvero curioso di vedere che cosa dirà per esempio dalla maggioranza il senatore Claudio Borghi che ha fatto una delle sue bandiere la battaglia contro il MES sostanzialmente. Peraltro, tantissimi mesi fa, Borghi aveva scritto una sorta di decalogo in cui fissava dieci punti in cui spiegava molto chiaramente, con cui sono perfettamente d'accordo, e con cui spiegava chiaramente perché non bisogna arrivare a ratificare questa riforma del MES. Se vuoi ti leggo qualche spunto velocemente in modo che così anche i nostri ascoltatori capiscono meglio di che cosa si sta parlando. Quindi Borghi scriveva questo a fine giugno 2023, quindi non dieci anni fa, e dice che ratificare la riforma significa approvare specificatamente tutto il trattato, comprese le sue parti più assurde, fatte votare da Monti a un distratto Parlamento nell'estate del 2012. La riforma del MES peggiora uno strumento già famigerato perché figlio degli interventi di austerità contro la Grecia. I paesi UE vengono divisi fra buoni e cattivi, l'Italia guarda caso è fra i cattivi. Il MES potrà intervenire nei salvataggi delle banche, nota bene non dei risparmiatori perché prima va fatto il bail-in e non si può decidere di non farlo. Se una grande banca tedesca o francese va in crisi, il MES interviene e i soldi degli italiani verranno usati per pagare i suoi creditori. Il nuovo trattato MES scrive chiaramente che in caso di intervento sarà possibile prevedere un taglio del valore dei titoli di Stato in mano ai risparmiatori. Il nuovo trattato MES obbliga a inserire nei titoli di Stato delle clausole che ne rendano più facile il taglio del valore. Se il MES fosse operativo, in caso di crisi sui mercati, vedi ad esempio durante la pandemia, la BCE non interverrebbe più lasciando invece azionare il MES con tutte le conseguenze del caso e il MES diventerebbe una specie di agenzia di rating con il potere di decidere sulla sostenibilità o meno del debito pubblico. In pratica potrebbe causare una crisi dichiarando a suo piacimento che un debito è insostenibile. Ovviamente una uscita di questo genere sarebbe un'uscita totalmente politica poi alla fine. Di tecnico non ci sarebbe nulla perché da un punto di vista tecnico, lo ribadisco, abbiamo teoricamente tutti gli strumenti per poter evitare una crisi del debito e lo strumento principale si chiama banca centrale che Mila e vorrebbe abolire. Questo già ci fa capire la follia di questo personaggio. Tornando brevemente a lui. Comunque invece sulla questione MES, i dirigenti del MES a fronte di questi poteri il direttore per esempio potrebbe chiederci il versamento del capitale impegnato oltre 110 miliardi entro una settimana. Sono esenti da qualsiasi giurisdizione. Davvero c'è scritto proprio così, dice Borghi. Non gli si potrà far causa, non dovranno rendere conto a nessuno delle loro azioni, nessuna autorità può violare gli uffici del MES, i loro stipendi sono esentasse. E poi dice, la soglia della maggioranza qualificata, 80% usata per numerose situazioni calibrate in modo da lasciare fuori l'Italia che pesa il 17%, mentre Germania pesa il 27% e la Francia il 21%. Guarda caso hanno i quote sufficienti per diritto di veto assoluto. Invece l'Italia questa cosa non l'avrebbe con questa riforma. Non è vero che si può ratificare ma non usare il MES. Ecco, forse questo è il punto più importante. Non è vero che si può ratificare ma non usare il MES. Una volta attivate le modifiche, esse diventano direttamente impegnative, vedi salvataggi delle banche e se l'Italia perdesse l'accesso ai mercati non ci sarebbe nessuna scelta possibile se non farne uso. Questo è un po' il riassunto di quello che scriveva Borghi qualche mese fa. Quindi vorrei capire oggi Borghi come si inserisce in questo dibattito. A regola dovrebbe fare, dovrebbe tirar su in Parlamento un casino della Madonna, spaccare la maggioranza e vedere se poi si arriverà a questa ratifica. Vedremo se andrà in quella direzione o invece come sembra scrivere qua stamani Repubblica, ma anche altri giornali nei giorni scorsi ne hanno parlato, si andrà nella direzione appunto della ratifica del MES che dovremmo scongiurare il più possibile. Io ovviamente preparo i popcorn. Assolutamente, no, vabbè, avvertenza infinita, avvertenza infinita, su, giù. Lo abbiamo sempre detto, se vogliamo un vero cambiamento, soprattutto dai nostri politici, è necessario che la consapevolezza sul funzionamento di un'economia monetaria moderna che è quella nella quale viviamo, cresca sempre più tra i cittadini che sono coloro che eleggono quei politici. Per questo Fef Academy ha realizzato il videocorso di economia e finanza complessa e oggi ha un prezzo davvero accessibile a tutti. Una piccola spesa per una grande resa. E poi ti regaliamo anche il nuovo libro di Stefani Kelton, Il mito del deficit. Cosa aspetti? Tutte le info su www.fef.academy.